I luoghi Cassiodorei, al centro di una campagna scavi portata avanti dal Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana di Roma. Trovare le radici cristiane, questo è il principale scopo del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana di Roma, che attraverso una convenzione con i comuni di Squillacce e Saletti avvierà una ricerca sui territori con saggi e scavi per individuare e portare alla luce i luoghi Cassiodorei. Un progetto che vedrà per i prossimi anni diversi studenti di vari indirizzi di scienze e dei beni culturali studiare e analizzare i luoghi legati alla vita del grande scrittore tardo antico e alto funzionario di Teodorico, il cui processo di beatificazione è in corso. Il punto di questo ambizioso progetto, che vede come principali attori, oltre ai due comuni, l'Arcidiocesi di Catanzaro Squillacce, soprintendenza per i beni archeologici di Catanzaro e Crotone, l'Istituto di Studi di Cassiodoreo e sul Medioevo in Calabria, Ministero dei beni culturali, tracciato in una prestazione presso Sala Riunioni dell'Istituto Cassiodoreo. I saluti hanno registrato l'intervento di Monsignor Claudio Maniagor, Civescovo della Diocesi di Catanzaro Squillacce, che ha evidenziato come questa ricerca offre spunti interessanti per conoscere i luoghi di un grande personaggio che ha influito molto nel mondo cristiano con le sue riflessioni, ma soprattutto per il suo pensiero. Chiara Raimondo, Presidente del Centro Studi Cassiodorei e anche altre archeologa, conoscitrice di questi luoghi, ha evidenziato la grande opportunità che avranno questi territori ai fini scientifici per analizzare e conoscere questo straordinario uomo di cultura e fede. Stefania Argenti, soprintendente per i beni archeologici delle province di Catanzaro e Crotone, ha sottolineato come questo protocollo tra i due comuni sarà un'occasione importante per valorizzare questi luoghi fornendo materiale scientifico, che potrà essere oggetto di pubblicazioni, oltre a un progetto più ampio di tutela del territorio. I territori dei due comuni al centro di questa ricerca finanziata con fondi comunali che vede questi studiosi in giro per il territorio per scoprire i segreti del grande Cassiodoro, del suo Vivarium. Noi vogliamo finanziare le pubblicazioni degli atti che usciranno alla ricerca sul territorio, ha sottolineato il Sindaco di Squillaggio Pasquale Mucari. Per noi è fondamentale portare avanti questo progetto che ci lega a questa grande statista. Il Vivarium, luogo di studio e contemplazione dei moneci Cassiodorei, che studiavano e traducevano gli antichi testi per preservarli alla memoria futura, su questo punto si è inserito l'intervento del Sindaco di Staletti, Mario Gentile, che ha precisato che i luoghi dove Magno Aurelio Cassiodoro si ritirò nella sua vecchiaia non avevano confini precisi, per cui occorre tutelarli nella loro presenza e valorizzazione come patrimonio comune. Un progetto che prevede ricerche di ricognizione di superficie per ottenere una mappatura delle evidenze archeologiche. Seguiranno l'analisi topografica, i laboratori di processazione dei materiali e momenti di formazione scientifica nei due comuni. Responsabile scientifico è il professor Filippo Pergola, mentre i direttori scientifici dell'attività sul campo sono a cura degli archeologi, Domenico Benoci e Gabriele Castiglia, che nei loro interventi hanno evidenziato con slide le varie fasi a impatto sul territorio.